bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora io io le dico guardi bevo l'acqua magica sto bevendo l'acqua magica ok ora che ho bevuto l'acqua magica dobbiamo fare una partita da canale e che vuol dire giù a pantano come i draghi è ultra contesto non si faccia prendere dal panico l'ho mancato abbiamo mancato in due lol cecchino che potrebbero apreci sopra finché un rpg viola così apri brutta vai 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 a terra uno nicio 46 ci sono attenzione che hanno messo giù l'esplosivo tempesta vorrei stare con lei vorrei stare c'è anche una ripresiva chiusura da me e caccia la palestra è un problema di gente qui a terra uno io non ho il pump oh il barret prendo il mio il mio rpg prendo prendo però non ho colpi c'è altra gente 100 100 c'è la che cosa c'è stanno rebuttando pure morto col barret andiamo c'è da qua e sono sul tetto io vediamo c'è gente sotto 86 craccato sono lì sono lì l'hanno di nuovo rezzato il popolo di me l'ho visto preso con la flinta aiuto 7 faccia questo che è scarsissimo perfetto chiudi qua box mi resti sì ma io ho un barret una flinta e un armadetto che neanche mi ricordo cos'è è quello lì col mirino c'è gente calmo 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 la nostra vende calmo è l'acqua santa l'unica abbiamo appena bruciato una venda fantastico è partita verso il cielo c'è un altro problema sono senza materiali che c'è un secondo farmiamo e vinciamola dai 23 chi va bene ok nice la partenza è stata buona non avevamo delle buone armi ma io voglio continuare a spingere va bene va bene andiamo a lei sta già andando ok stanno sparando ancora sì 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 ce n'erano altri due eccoli là sono l'acqua bastarda andiamo a prenderlo a prenderlo sali di qua saliamo andiamo a prenderlo andiamo a prenderlo calmo calmo non l'ha fatto volare non l'ha fatto volare non l'ha fatto volare non l'ha fatto sei accanto nella macchina deciso finito con la focile è sparito c'è un altro sentito penso di sì spero che abbia delle armi decenti questo c'è un tipo qui dietro l'albero vai 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 lo prendi da destra bravo 115 a safe dove è andato è qua con la shadow bomb 126 20 20 20 ucciso ucciso ho bisogno di aiuto questo poi questo è un altro sì quello è scarso ma aiutarmi ancora più scarse di lui ti è piaciuto grazie non abbiamo ancora finito di fare casino 23 dentro andiamo andiamo abbiamo fatto una bella apertura partita molto divertente per adesso tutti i piccoli grazie ok non fermiamoci materiali sono messi abbastanza o 500 ma vorrei capire dove la gente c'è un cecchino leggendario dice chi non è quello silenziato va bene va bene sento che sparacchiano lì davanti è sì ho visto visto io voglio andarci e te lo dico vado 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 volevo fare proprio bene e come si sono qua ma di rispondo tutto con la minigun no come le trappole queste qui no ho venti di vita perché ho poi le trappole questo non è bene se lei ha ancora lo spara bene io ci sono sì ho sotto un tipo devo scendere cerco di salire da lei ma la vedo male dov'è ok resta subito instant chiudi tutto chiudi tutto chiudi tutto apri apri non puoi restarmi qua non puoi restarmi qua o mi prendi e mi porti via mi servebbe il chuck chuck però allora se lo prende e se ne vada arrivo giù arrivo giù non ci capisco più niente loro si sparano io sono qui chiudi tutto dietro di te dietro di te e a me a me non capisco più niente non capisco più niente allora stia buono stia calmo stia calmo e buono prendo il chuck si faccia quel chuck subito non ci riesce a tenere un attimo lo sa che non è sua quel arrivano ci sei no l'ho preso per pochissimo ciao peciolino andiamo ma qui c'è un sacco di loot non si capisce niente lo spas no no io entro sempre di minigun frega un c***o dov'è lo spas e l'avevo visto prima non so dove andare si è fottuto siamo in cinque siamo siamo in cinque siamo l'unico team da due lol voglio fare un'altra marretata l'italia sniper avevo visto prima lei non ha un'idea di quello che vede easy 330 c'è un tipo qua sopra mi è venuta anche la ciment ma che gli è venuta la ciment ciment e quello si e a niente allora il mio rab non sento nulla venga faro un e l'altro mio gli faccio cadere tutto un altro arrivo fare tutto fare tutto eh c***o no no 37 non muoia la prego non più materiali si chiudi resta si ricky oh my god dai ricky che la chiudiamo siamo 2 v 1 qua non c'è ahahahah guardalo dove ma non ci credo 31 c***o c***o 42 42 bongo su dov'è let's go ricky complimenti bella questa partita bella 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 3 2 3 5 4 5 5 6 9 10 9 10 Grazie a tutti.